dal Senato. Gli sforzi di diversi senatori di ritornare al buon senso e alla buona legge sono stati vanificati da un voto che ha deciso di andare avanti con un colpo di mano. I colpi di mano non ci piacciono, non prenderemo un altro schiaffo, non vogliamo dire che daremo un altro schiaffo, ma penso che riusciremo ad abbattere questa iniziativa con i cittadini e con i giornalisti impegnati, decisi a non mollare una battaglia civile in cui crediamo. Oggi incassiamo un risultato negativo, ma da questa sconfitta che arriva dal palazzo ci riscatteremo con una vittoria che otterremo nella città.